Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Cosmic Prison Ragazzi, oggi voglio tantissimi like perché ufficialmente in questo video andremo a fare il livello 101 Che è un tanta roba in realtà Sono livello 100 e sono a 49% per poter arrivare poi al 101 E come avete visto ovviamente all'inizio del video ho anche fatto un po' di enchant Infatti mi sono fatto una bella armatura a livello 20 che è un buon inizio Ho messo da parte adesso un po' di cosette interessanti ovvero un po' di hero energy Che mi servirà per fare tutto al livello 25 perché veramente un buon set almeno al livello 30 deve esserlo E quindi devo fare in circa 4 milioni e mezzo se non sbaglio Sì per ogni pezzo di armatura che ho a momento Per portarlo tutto al 25 e poi altri mi sembra 6 migliori qualcosa per poterli portare tutto al 30 Quindi servirà comunque un sacco di roba ma non preoccupatevi perché lo faremo A parte questo non so che vi ho fatto vedere ma ho potenziato il mio piccone al massimo Livello 41 e ha in sostanza 40 enchant e ha tutto quello che mi serve per il momento Mi serve ancora a recuperare un'altra satchel Quella non ore quindi refined degli smeraldi E cercherò di trovarlo appena possibile in qualche maniera Solo che è una cosa abbastanza difficile Ora siamo ad ora abbastanza tranquillo e quindi ho comprato un attimo un vulcarion Per esempio il motivo stava a poco quindi ho deciso di comprarlo Ho un po' di soldi da parte in realtà c'è qualcuno che mi deve ancora dare un po' di soldi da parte Quindi non preoccupatevi per quello Però sto mettendo un po' da parte i soldi per poter completare le quest Infatti in questa puntata voglio completarmi un paio di quest che ho da parte Manca davvero poco a completarle quasi tutte Ho finito quelle dei Q-Kit cioè in realtà mi manca tanto una del quello di Christmas Però quella di Valentine non l'ho finita tutta Ho finito la maggior parte delle missioni normali per le quest normali Perché poi nella prossima puntata che sarà quella che arriverà poi Insomma settimana prossima penso Andremo a vedere cosa abbiamo trovato dentro a quello di venerdì Dentro al Mistress Man perché teoricamente lì dovrebbe esserci un po' di roba interessante e utile In ogni caso andiamo a aprire questo Vulcarion alla ricerca di roba carina E quindi vediamo un attimo che cada Solo che non so da che parte sta cadendo perfetto in questa maniera E andiamo a uccidere questo coso qua ragazzi direttamente Anzi nel frattempo andiamo a romperlo Vediamo un po' cosa facciamo a trovare Ovviamente manio piccone Andiamo col piccone perché l'altra volta è stato abbastanza fortunato il piccone Quindi magari abbiamo un culo e ce la facciamo E voglio un attimo vedere se riesco a trovare qualcosa di buono Se non avessi trovato qualcosa di buono comunque lo posso rivendere Perché teoricamente questa roba si può rivendere per un po' di energia Perché è un Vulcarion Vediamo un po' Niente per ma va bene Però ho trovato comunque un po' di cose interessanti Che possono servirmi E possiamo tranquillamente rivenderli per l'energia al nostro tinker O per utilizzarlo per un set qualsiasi in futuro Però penso di rivendere perché al momento non mi serve Quindi torniamo un attimo allo shop L'ho andato a tinkerare e metto un po' di energia da parte Nel frattempo farmo perché devo salire come vi dicevo Al livello più alto Però prima vi mostro le quest che mi mancano Mentre qui vediamo che effettivamente non ho fatto manco un livello di quello che ci serve Perché giustamente sto iniziando un po' randomicamente Alla ricerca di qualche santo leggendario Vi faccio vedere le quest che mi mancano Allora andiamo a vedere prima cosa del Q-Kit Perché è quello più interessante Ed è questo qui Spendi 10 milioni Quindi pian piano dovrei farcela E questi soldi sono soldi che ovviamente serviranno per comprare un sacco di generatori Infatti teoricamente vi sto facendo un conto Che dovrei prendere più di 40 generatori di smeraldo Soltanto in questa maniera Quindi sarà tanta roba da poter recuperare Per quanto riguarda invece le altre quest ragazzi Le nostre missioni sono queste qui Devo fare la morte 5 volte Questa mi sono dimenticato Però questa si fa facilmente Non è un problema Devo poi andare a farmi Questa qui Che è prestigio un piccone Devo trovare un sacco di refined Perché mi sembra che ho quasi finito questa missione Quindi mancano circa 600 Però vabbè Refined si trova in giro minando Quindi non è un problema Poi devo fare questa missione qui Di spendere 5 milioni allo shop Quindi facendo quella di 10 milioni Ovviamente questa la completeremo lo stesso E poi tinkerare un piccolo Un oggetto a livello 25 E per finire Mina un natural G-Kit block Quindi in realtà se ho fortuna Dovrei riuscire a fare tutto quanto in maniera piuttosto veloce Almeno si spera Il problema essenziale è che trovare un G-Kit natural Non è una cosa facile Perché abbastanza spesso ho fortuna di trovarlo Durante la settimana 1-1 Però non è una cosa proprio che La fai senza problemi Perché teoricamente Devi cercare di andare in giro molto spesso Per un paio di ore E sperare di avere la fortuna di trovarlo manualmente Però insisto Non è una cosa facile e facile da trovare Ovviamente mi sa che è andato parecchio male Stavolta l'enchant Ho fatto solo una parte buona del vulcanium Quindi mi sa che non prenderò manco nulla di interessante Qua sapete Ok andiamo a tinkerare tutto quanto Vediamo quanto ci facciamo Direttamente qua con questa roba Abbiamo speso un po' di soldi inutilmente Ve lo devo dire sinceramente Però mi sa che adesso d'ora in poi Non ho i soldi da parte per completare la missione 290.000 di energia Non li valevano 2.500.000 Comprato quella roba Però vabbè ci accontentiamo Ok E adesso possiamo andare di nuovo a farmare tranquillamente Allora ragazzi Sono andato ancora un po' avanti Sto farmando per salire al 101 Manca davvero pochissimo Sono 5 milioni che sono davvero pochissimo Figuratevi Da 59 milioni A In realtà 56 milioni A 5 milioni qua Sono davvero poca roba E probabilmente vi vedrete questa giornata salire Prima al 101 E poi tornare un po' indietro Perché Aiuto un attimo Fanta a salire al 102 Così che lui possa minare Finalmente gli smeraldi Ed gli smeraldi Poi mi darà l'expin dietro Per salire poi io stesso al 102 Quindi diciamo che si bustiamo a vicenda Per poter rivedere questa cosa E sistemarla Ho qui da parte Un casino di Bellissime legendary Ma le apriremo poi Appena arriveremo Penso a 101 Perché ci darà anche un'altra roba Quindi sicuramente lo facciamo Ho qui da parte 13 milioni Mancano ancora 4 milioni circa Per poter portare tutta certa al 30 Quindi lo faremo sicuramente Aprendo anche le godri Ovviamente Una cosa che voglio fare oggi Però prima di andare avanti E andare a prendermi il G-Kip Perché voglio vedere Cosa riesco a trovare qui in mezzo Tra Vulcarion Zenith Colossus Warlocks Slaughter Enchant E Atios Nemmeno una White School Questa settimana Che schifo Almeno un po' di energia Fatta bene Niente male Sinceramente Ci sono dei pezzi Che sono di tutto rispetto Ok la spada non è il massimo L'altra spada fa pure schifo Ci è andato un po' di schifo In generale Con le robe da fare Però almeno È roba gratis È decente Ovviamente Quindi dire che per il momento Mettiamo da parte Questa roba qua Che sono altri milioni di energia Perfetto Altre simple Altre roba che ci serve Perfetto in questa maniera E andiamo a tinkerare il resto Penso che Si tinkerò tutto ragazzi Perché sinceramente Non mi serve nient'altro Questo piccone lo tengo Perché sto tenendo i picconi Con le White School Che possono essere utili Fanno tutte abbastanza schifo Quindi butto tutto In questa maniera Ok sono 580.000 Il resto invece Devo potenziare Vediamo un po' qualcosa di nostro Di interessante A parte questo Sinceramente Non c'è nulla di interessante Questo poi non è che sia Questa gran cosa ragazzi È un inizio È qualcosa di interessante Ci sta Vabbè Allora a sto punto Andiamo a tinkerare Sono altri 500.000 Da parte In questa maniera Perfetto E andiamo Ad aprire la nostra slaughter bag Speriamo il 5% LOL LOL Molto randomica questa ragazzi Qualcuno La voleva in sostanza Questa roba Quindi mi sa tanto Che la andiamo a rivendere Anche perché La possiamo rivendere Penso a 500k Una cosa del genere So che qualcuno La stava comprando Quindi ci sta Qualcuno trova le shard Di generatori di diamante Che poi è buzz Che culo ragazzi Vabbè Comunque andiamo un attimo Ad aprieto il resto Andiamo a vendere anche questo E qua stiamo vendendo A un certo punto Perfetto Stiamo vendendo questi Per fare soldi E guadagnare cosette Perché tanto abbiamo Un botto di roba Quindi problemi Non se ne pongono E non abbiamo Ma con il 5% Che bella merda Ok visto che non volevo aspettare In realtà perché Diciamo devo andare un attimo via Ragazzi Direi di bere questa roba qua Direttamente Facciamo un bel mining Così Tadam E poi andiamo a bere Questi 5 milioni 6 milioni In realtà E saliamo direttamente A quello che dobbiamo salire Ragazzi Il nostro 101 Tadam In chat E beh beh 500.000 ragazzi Non è male Non è per niente male E possiamo andare Sicuramente a mettere Sto roba da parte Perfetto Abbiamo 15 milioni Da parte Tantissimo Va bene GG E a parte questo Facciamo XP Extract all Adesso Perché dobbiamo estrarre tutto E lo diamo A Fanta Che deve salire In sostanza Quindi diamo tutto Penso sia giusto Dovrebbe essere tutto Perfetto Wow 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 Ok Item GG Ok Bene Adesso in sostanza Andiamo a dare questa roba A Fanta Però Dereltamente Lui non ce la fa Mi sa salire Perché gli mancano Ancora un po' In sostanza Però Ehi Non è male come cosa E quindi 52 milioni Ragazzi Un casino E l'importante Che sono salito A 101 Adesso Devo risalire di nuovo Però Nessun problema Da quel punto di vista Quindi dopo aver ufficialmente Fatto tutte le cose Che ci servivano Ho raggiunto ufficialmente I nostri 10 milioni E 68 Circa Mi servono 10 milioni E 80 Per poter finire Questa cosa Quindi ho un po' Di lavoro Avanti a me Forse sono 10 milioni 800 Non lo so Comunque Mi servono tanti soldi Per poter completare la missione Quindi ci proverò Non è un problema Cosa devo fare adesso ragazzi Devo andare a aprire Ben 420 Chard Tutte fighe Potenti Che sono tutte Da godly a legendary Sono 6 stack Complete E qualcuno Un po' meno Tipo queste qua Che sono quasi finite Però insomma Sono tante stack Quindi direi subito Di andare Ad aprire un po' di roba Iniziamo direi Da quelle Legendary Infatti ne ho Le ho messe un attimo Una a uno Perché le volevo Tipo fare itemare tutte Perché sono tanta roba ragazzi E direi di iniziare Con quelle legendary E poi finire Quelle godly Quindi iniziamo Con queste qua Direttamente Saremo full di roba Quindi abbiamo Tanta roba Da tinkerare Non so di farvi vedere Tutta quanta roba Quindi Diciamo che per ora Iniziamo così Poi andiamo scialli Questo ovviamente Sotanto per Tipo la farmata Di mezza giornata Giusto per dire Ragazzi Non è nemmeno Sa quale gran roba Se qualcuno Lo sta chiedendo Ok Primo stack È andato con roba decente Va bene Andiamo col secondo stack Direttamente adesso Ad aprire Tadan Vediamo un po' Cosa c'è di interessante Vabbè Nulla di troppo interessante Andiamo ad aprire queste E poi tinkeriamo tutto Perché sennò Siamo full di roba Va bene Andiamo quindi subito A fare Tac 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 Guardate quanta roba Benissimo L'altra roba Le lasciate un attimo Da parte ragazzi Che sennò Avrei fatto Tutta la roba Strana Quindi per ora Facciamo così Perfetto Abbiamo 500k Solo da due stack Più leggendari Di ogni tipo Che ovviamente Dobbiamo andare ad aprire A parte questi qua Abbiamo anche Un po' di soldi 26k Solo da quella roba Giusto per dire Andiamo ad aprire Queste altre leggendari Vediamo un po' Altre leggendari L'idea che mi servono Anche queste black scroll Perché niente Quelle normali Quindi devo comunque Farne altri Pian piano Ok abbiamo altre Perfetto Eccoci qua Ok abbiamo Un'altra roba Interessante Mi serviranno Queste leggendari Che aprirò ovviamente Pian piano Poi nei prossimi giorni Appena avrò le altre quest Perché le tengo da parte Visto che È abbastanza spesso Diciamo che capita Sta cosa di doverle utilizzare Quindi utilizziamole Ok altri 180k Con altri Centinaia di k In generale Perfetto 496 Siamo un milione Solo con le leggendari Va bene Che comunque È tanta roba Perfetto Ora mettiamo le altre godly E andiamo ad aprire Anche queste qui Iniziamo con le prime godly Tadam Andiamo con la prima Ok nulla di interessante Qualche cappellino Ma nulla di figo Perfetto Niente ancora di figo Ci siamo Vediamo un po' Che ho trovato qua E altra roba di energia Questa volta però Devo andare per forza A tinkerare tutto In un'ora che poi esce Stanto roba indiamante Quindi soldi a manetta Che altro energia a manetta Vado raga 500k Mi viene un colpo al cuore A vedere tutta sta energia Perché piango Per fare sta energia Non proprio piango Però insomma Un po' di tempo ci metto Aver fatto già 2 milioni di energia Solo con le cose qua ragazzi È tanta roba Il problema sarà Mettere tutte queste cose qua Da parte Perché l'inventario Non è così tanto pieno Andiamo ad aprire Anche gli altri godly Perfetto Manca una guardia Che la guardia sarebbe utile Perché la potrei vendere A un prezzo più decente Sinceramente Però niente di figo Un paio di altre cose interessanti Tra cui queste cose Perfetto Quindi 484 mila Ancora di energia Da parte Più altri 200 Altri 400 Questa roba Abbiamo fatto Altri 900k Quindi abbiamo fatto 3 milioni Solo dalle shard Quindi direi Che possiamo fare Un bel item Only From shard Che insomma Ci sta come cosa E abbiamo quindi La bellezza ragazzi Di quanta roba Adesso 15 milioni Con questa Siamo a 18 milioni Quindi ufficialmente Possiamo farci un set Completo a 100% Devo un attimo Mettere da parte Tutte queste dust Spero di farcela Ok Ne abbiamo un po' Troppe probabilmente Quindi Sì Un po' di dust Ce li ho Alcuni li andrò a utilizzare Oggi direttamente Quindi non preoccupatevi per quello Devo fare 1, 2, 3 e 4 Così ci siamo Perfetto Mettiamo da parte Anche quest'altra Bellissima black scroll Che sono tutta Roba buona Quindi direi che ci sta Sinceramente Perfetto E ci siamo E poi queste 32 Solamente Tipo di roba bella Quindi Direi di aprire tutte E poi vedere Quale ci potrebbe servire E quale no Quindi Il resto la tagliamo La buttiamo completamente Però penso che Le trovo da parte Sapete perché A sto punto Le mettiamo da parte Abbiamo uno stack E poi li Teniamo tutti insieme C'è una cosa Abbastanza carina da fare Bene Con tutta questa roba Ragazzi Come sto da parte Posso ufficialmente Farmi un set Livello 30 Da livello 20 Che avevo già fatto Quindi direi che ci sta Come cosa Sto facendo questa cosa Perché Fare un set Completo Senso Dover fare forza Una parte Di un certo livello Un'altra parte Di un certo livello È una cosa sbagliata Sono gli altri pezzi Perché se no Non ha senso Sinceramente E l'oro 30 È più o meno Il set Che volevo avere Per iniziare Quindi direi che Comunque è un buon Vantaggio per il momento Quindi Direi di mettere da parte Tutte queste cose Andare a posizionare Tutte queste cose Qua direttamente E andiamo a farci Un bel po' di enchant Ovviamente Ho bisogno di Un sacco di dust Quindi vado a prendere Un po' di dust Vado a prendere Tutta la roba che mi serve E andiamo A fare Tutta la roba Che ci interessa Ovviamente questa roba Magari la mettiamo da parte Se mi serve qualcosa La prendo E per quanto riguarda Il pivito del resto Mi sa che devo Stanto controllare Cos'è che mi mancava Però penso di avere Tutto il necessario Tranquilmente pronto Tipo hook 2 Mi serviva Diciamo addio ragazzi Alla nostra ball Perché officialmente Questi 2 milioni e 5 Se ne andranno via Per completare le missioni Però va bene L'importante è quello ragazzi E andiamo di cattiveria Da comprarci un bel po' Di questi emerald or Dovo cercare di completare Una missione Prima quella da 5 milioni Poi quella da 10 milioni Ok la prima è andata Quindi i primi 10 token Sono nostri Va bene Ora devo completare l'altro Nel frattempo Il mio ball inizia a scendere Verticinosamente Ragazzi io piango Guardate come se ne vanno i soldi No che cosa brutta Vabbè se è 42 Teoricamente Ok Completato 39 ne hai dovuti comprare Va bene Niente potenziamento Per sfortuna E quello ragazzi Non ci può fare nulla Però ci siamo Per quanto riguarda La mia armatura Ho filato Solo una cosa Per sfortuna Che è soltanto questo Colpetto Se non ho filato Mi rage O deflect Deflect 2 Mi sembra 90 qualcosa Sempre la solita sfiga Perché le dust le ho finite Ragazzi ovviamente Ogni tanto finiscono le dust E abbiamo ufficialmente Quindi tutta questa roba Fatta bene Abbiamo un po' di roba interessante Tutto il setup Al 30 Tra cui anche la spada La spada adesso Ha hook 3 Electro cushion Ho quasi maxato poison E fling Mi sembra che ho filato Anche un livello Sulla spada Può essere Non me lo ricordo Penso no Forse l'altra volta Però ho maxato tutti quelli Che mi interessavano E mi manca solamente da fare Tutta la parte blu Che sono Non sbaglio Blaze E swordman Lucky 4 Ovviamente che penso Di poter comprare Appena possibile E poi Devo finire Poison e fling Per uno di quello E mi sembra che c'è Sta un altro Di coso Che dovrebbe essere No Che dovrebbe essere L'altro Per fare Danni che scorcia Comunque un po' di roba Ce l'abbiamo da parte Ma pian piano Sistemeremo tutto il resto Però direi che Come armatura A parte i scarpini Che magari Sono un po' più brutti E gli altri Suntiti 3 3 belli alti E le altre cose Possono andare bene Quindi abbiamo abbastanza roba Adesso ragazzi Comunque Direi andare a farmare di nuovo Perché dobbiamo farmare Di nuovo completamente E arrivare Al 101 di nuovo E penso che però Per questa puntata Potrebbe essere anche tutto Anche perché Abbiamo fatto un botto di roba Abbiamo incertato cose Abbiamo aperto dust Cose fighissime Quindi un botto di roba Ragazzi Abbiamo adesso da parte Un po' di cosette Dove ho stato comprare Miteoricamente Fortify 3 E maxali piccone a 44 Perché poi Miteoricamente Non mi serve nient'altro E aspettare di andare a 102 Per poter Ufficialmente fare Tutto il resto Quindi direi che Per il momento Siamo a posto In ogni caso Noi ci vediamo presto A noi ci vediamo il video Ciao ragazzi Prossima puntata Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.